Buongiorno. Quando preghiata, lo stavo reggimento per Staglieri e riparto a comando della Caripaglia. Per te, ero giù! Sono venuto a rendere omaggio e a ringraziarmi. Non solo di tante parole, da Ministro e da semplice cittadino, ho cercato e cerco tutti i giorni di applicare quello che la Costituzione prevede, quello sia che la difesa della Patria, che è un sacro dovere di ogni cittadino. Ho voluto, in passaggio, onorare la vostra visione, la vostra presenza, il vostro messaggio, il vostro modello in una terra difficile, che però ha in voi, ha in questa preghiazza, dei motivi di orgoglio e di speranza per tanti ragazzi e per tanti ragazzi. Non la faccio lunga, vi ringrazio per quello che avete fatto in Italia e all'estero, ma soprattutto vi ringrazio per quello che farete perché è bello. Onore a voi e buona vita. Grazie. 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 Grazie a tutti.